Ciao mamma! Ciao Stefano! Mamma, io sono felicissimo! Ah si? Al settimo cebbo! Che successe? E capiranno anche i nostri amici perchè. Io vi mostro SOS H, il mio, il mio, il mio, il mio. La creazione è tua. Prima di tutto carte regolari, ok? Le carte possono essere mescolate, faccio io perchè sono più veloce, mescolate completamente. Mamma, mamma, basta! Tutto mescolato, un mazzo di carte regolari da casa, tutto mescolato, ok? Sì. Dopo che, chiudo io che sono più veloce, ora il mazzo è qua. Ma, ma, uno può pensare, eh ma, hanno i dorsi segnati, uno può pensare, lo anche volendo, no? Ragazzi, è normalissimo. No, sono tutto pulito, sì, non c'è. Cioè, non c'è, sì, sì. Non hanno segni, niente, ok? Questo... Tu stessa, chiudi la carta. Ora, ragazzi, seguitemi attentamente. Io non toccherò più le carte. Mia mamma ha un mazzo di carte in mano. Ok. Sguardalo bene, mi raccomando. Io ora mi venderò, ragazzi, e non sapò più niente. Ok? Ragazzi, vi assicuro, non vedo una mazza. Ora, hai il mazzo di carte? Sì. Mettilo giù sul tavolo. Sguardalo bene. Sì. E, tu stessa taglia un piccolo mazzetto e guarda la carta fra dei nostri amici. Fatto? Sì. E metti sopra. Già fatto. Ora, prendi le carte e girarle tutte di faccia. Sì. Ora, pensa a un numero. Lo devi solo pensare, tipo, non so, 10, 20, 30, 40, quello che vuoi tu. Ma, in base al numero che tu hai... Aspetta, aspetta. Stai facendo già? No, no. Ok. In base al numero che tu hai, passi delle carte da sopra a sotto. Se pensi il 5, passi 5 carte sotto. Ok. Libera. Silenziosamente, non voglio sapere niente. Non sento niente. Assolutamente, ragazzi. Io non toccherò mai le carte. Lo spettacolo hai in mente una carta e un numero che tu hai nella tua mente. Gira tutte le carte di dorso. Ora, comincia a buttare da sopra, contando le carte. Io senti una sensazione. Aspetta, devi farlo. Io senti una sensazione e ti fermerò alla tua carta. Ok? Sì. Vai. Contando. Tre, quattro. Fermati. Fermati. Potrebbe essere quella tua carta. Ora, ma zitto che hai in mano. Mettilo sopra. Sì. Fatto? Sì. Io non posso sapere niente. Ora, tu hai in mente una carta e un numero, giusto? Sì. Io credo che il dovessi fermato potrebbe essere quella. Attenzione. Per la prima volta, la carta mentale che tu hai qual è? Sei di picche. Sei di picche. Il numero che hai? Otto. Libero. Potrei scegliere qualsiasi numero. Otto, sei di picche. Tu stessa, gira. Otto carte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Questa è l'ottava carta. Sei di picche. Signore e signore. No. Il sè. Il sè. Il sè. Impressionante. Questo è un endo. Fino un tocco mai le carte. Ma come hai fatto Stefano? Te fa tutto tutto questo creativity com te da della? Guarda Stefano, Hisaw Brandenio, questa è… …! Be**icino Stefano! Faccia Stefano. Grazie.